Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, the legend is back, Gormiti! Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Ma avete visto quanto sono belli i nuovi collezionabili? Eh sì, abbiamo fatto vedere i primi quattro personaggi, Giada, sono davvero fortissimi. Sì. Eh sì, eh sì. Johnny, però adesso è arrivato un momento. È arrivato un momento tanto atteso. Quello della sfida! Esatto, quelli che tutti aspettavamo. Tra l'altro la Wave 10 è ancora più forte di prima, i personaggi sono diventati ancora più potenti. E vincerò sicuramente, lo sento, lo sento. Giada, allora, te l'ho detta, non puoi dire queste cose ai bambini, non si dicono. Non è vero. Si dice, Johnny, mi spiace, io perdo ancora, tu vincerai. No, non funziona così. Non funziona così. Allora, ti ricordi? T'ho spiegato il segreto, io le ho spiegato il trucco e lei non lo vuole mai... Non c'è nessun trucco. Il trucco è che tu bari. Non baro. E questo è il trucco. Allora, vediamo un po'. C'è. Tu che hai trovato? Adesso vedrà. Ho già lo smirciato e ho visto. Allora, sei pronta? Prontissima. Io ho trovato Lord Trition. Io ho trovato il titano degli elementi. Alfa Lord Trition contro il titano degli elementi. Secondo me qualcuno, qualcuno vincerà. Qualcuno, qualcuno perderà. Allora, sotto... Ah, giusto. Allora, sulla cardo è il numero nove. Anch'io il numero nove. Eh. 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 Dai. Non è così alto. Eh. È forte Lord Trition, eh. Sotto il piede, Giada. La verità. La verità? Sì. La verità è difficile, Gianni. Non è difficile, non è per me, Villa. Perché ho il numero sette. Davvero? Perché anche io ho il numero sette. No, ma come? Cara Giada. Ho il numero sette. Io pensavo che avrei vinto. Io no, invece, perché pensavo di vincere io, ovviamente. E Giada, niente, abbiamo fatto pari. Lo giuro, non sto scherzando. Nove e sette. Oppure io. Giuro, giuro, giuro. Io pensavo di vincere, Gianni. Eh, Giada, non ha vinto nessuno. Quindi, niente. Proseguiamo la puntata e andiamo avanti. A proposito di vincere, vi ricordiamo il concorso Vinci Gormiti. Vi basta andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it per partecipare. Ed è super, super facile. Durerà fino all'11 giugno e vi servirà semplicemente il vostro scontrino o la vostra fattura del vostro acquisto per partecipare. Esatto, Giada. Ci saranno dei premi in palio, giornalieri, settimanali. E tra l'altro... Sì, due premi settimanali. Due premi settimanali. Ci saranno le viste, l'ambientazione, pop-up, quella scenografia grandissima. Ma è proprio uguale al cartone. È proprio uguale al cartone animato con 11 personaggi della serie 3. Io parteciperei subito a questo concorso per vincere. Buona fortuna. E tra l'altro, Giada, ma tu per caso hai visto il codice promo se sei nascosto da qualche parte? Bisogna guardare molto attentamente, Gianni, perché è birichino. Vi ricordiamo, ma cosa serve il codice promo, Giada? Il codice promo serve per andare sul sito dell'e-commerce i giochi preziosi e vedere che promozione verrà riservata ai nostri amici. Giusto. E Giada, ma a proposito di sfida con i collezionabili, c'è qualche nostro amichetto che ci sta aspettando per sfidarci? Andiamo, non facciamolo aspettare troppo. Andiamo. Ciao! Ciao carissimo! Che bello vedervi! Allora, prima domanda. Che cosa ho fatto io? Ho sentito... Ripeti un attimino. Non lo sentiamo più. Non lo so perché c'è qualche piccolo problema di audio. Ok. Ok. Allora, come state intanto? State bene? Bene! Sì, sto bene. Vedo che siete super carichi per questa battaglia. Avete già posizionato tutti i vostri gormiti lì davanti. Eh sì, guarda lì, guarda lì cosa hanno. Un sacco di gormiti. Ma siete contenti di essere qui a Gormiti Show? Sì! Ci vediamo per la prima volta, anche se virtualmente, la prima volta che riusciamo a vederci. Allora, siamo pronti per sfidarci. Sì, però sarete voi due a sfidarvi. Siete pronti? Siete carichi? Vi siete riscaldati? Vi siete? Dai, riscaldatevi un po'. Riscaldatevi, riscaldatevi. Che è una battaglia fortissima questa. Vai, vai, vai. Un po' giù. Un po' giù, vai, vai. Un po' giù, vai, vai. Bravo, 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 bravo. Ok, ok, ottimo. Allora. Si sta riscaldando. Si sta riscaldando, Mattia. Allora, bustine in mano davanti a voi. Bustine in mano. Una, una. Una, una. Al mio tre, apriamo. Uno, due, tre. Vai, aprivi. Vediamo un po'. Ok. Dai, forza. Ma come non si apre? Sì, però... Aspetta, aspetta Pietro, eh. Aspetta Pietro a dircelo. Sì, sì, dicevo... Mattia, forza. L'hai trovato? L'hai aperto? Ok, anche Mattia l'ha aperto. Allora. Scartalo bene. Pietro pensa già di aver vinto, lo vedo dalla sua faccia, ma adesso capiamo, Mattia, se è vero. Chi hai trovato, Pietro? Mi ho trovato... Ehm, come si chiama già? Omega Lord Voidus. Oh! Ok, Mattia, hai sentito bene? Pietro, il tuo sfidante di oggi, ha trovato Omega Lord Voidus. E tu, Mattia, cosa hai trovato? Ho trovato Irgur. Oh! Ah, vabbè, però siamo nello stesso mondo, eh. Sempre cattivi. E immaginavano, in sacoli. Ok, abbiamo Omega Lord Voidus, quindi... Contro Irgur. Esatto, esatto. Allora, sulla card, Pietro, che numero hai? Nove. L'otto... Nove. Nove? Mmm, ok. Nove è uno dei più alti, eh. E tu invece? Sette. Sette, beh, è alto lo stesso. Ci sta, ci sta. Ora, andiamo a vedere sotto il piedino cosa c'è, che numero abbiamo sotto il piede del vostro personaggio. Allora, nel mio c'è il numero 2. Ok, che 9 più 2 fa? 9 più 2 fa 11. Giusto. 11, ok. Mattia sotto il... Io sotto il piede del vostro personaggio. 7 più 4. Giusto, era 7 il suo? Sì. 8, 9, 10, 11. Quindi siete pari! Bravi! Wow! Bellissima questa partita! Siete pari? Siete pari, siete stati fortissimi tutti e due. Vedi, due cattivano, quanto l'altro. Eh, vabbè, è giusto, è la stessa famiglia. Giusto, giusto. Ok, allora... Intanto ho un cattivista. Volete dirci un'ultima cosa prima di salutarci e farci un ciao gormitico? Qualsiasi cosa... Facci una domanda o anche salutare i vostri amici che vi stanno guardando. È la prima volta che siete qua, quindi qualunque qualsiasi cosa volete chiederci, perché noi dobbiamo proseguire la puntata, quindi come volete voi. Se volete dire qualcosa, approfittatene adesso. Io non voglio dire niente. Bene. Ok. Fantastico. Gli è bastato fare questa super battaglia a lui. Benissimo. Senza parole. Lui è rimasto senza parole. Mattia, tu... Io aspetto le puntate nuove! Tu aspetti le puntate nuove? Arriveranno subito, prestissimo. Ci vuole il tempo che ci vuole. Allora, con questo noi apriamo le braccia. Non vedo l'ora! Vai Pietro. Arriveranno presto, vedrai, saranno bellissime. Vai Mattia, abbracciamoci! Stringiamo forte! Un mega abbraccione! Ciao bimbi! E grazie per esservi ispirati con noi. Ciao! 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 Parlare con voi a noi piace davvero tanto, 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 tanto. Ed è super facile. Basta andare sul sito gormicishow.com e seguire tutte le istruzioni. Giusto, Giada. Oh, il codice promo! Il codice promo! L'ho visto, Gianni! L'ho visto! Ma dove è andato? È così biricchino. Se voi l'avete visto, dovete andare sull'e-commerce di giochi preziosi e inserire il codice per vedere che promozione riservata a voi. Giusto, Giada. Ma ora è arrivato il momento della... Gormitica! Allora, ci sono arrivate delle foto e anche delle dediche. Allora, dai, leggiamo. Inizio io. Ciao, Gianni e Giada. Siamo Mattia e Lara. Vi seguiamo sempre. Adoriamo i gormiti. Un bacio grande, tra l'altro. Carini, guarda come si abbracciano. Ci ha scritto. Ciao, Gianni e Giada. Mi chiamo Mattia. Ho sette anni. Ho disegnato Zarnok. E mia sorella Lara, che ha cinque anni, ha disegnato Antium. Vi seguo dall'episodio 17. Lui ha pure contato gli episodi. Adoro i gormiti. Ne ho tantissimi. Come vedrete nella foto. Ho il costume di Lord Carrion. E il mio gormito preferito è Irok. Un bacio grande da Mattia e Laura. Ma un mega bacione a tutti e due. Siete tenerissimi. Che carini che siete. E hanno una super super collezione. Vi aspettiamo al Gormiti Show virtualmente. Vi aspettiamo. Invece ci è arrivata una bellissima foto da Samuel. Ok. Ciao Gianni e Giada. Sono Samuel. Ho sei anni da San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. I vostri video sono bellissimi e divertenti. Le nuove puntate del Gormiti Show sono super. E i miei personaggi preferiti sono Lord, Sol e Titano. Un abbraccio. Ti mandiamo un mega bacione. Grazie mille. Grazie per seguirci. Tra l'altro hai una collezione davvero gormitica. È bellissima. Davvero. Bravo, bravo, bravo. Fantastico. Anche due bracciali. Ah no. Un guanto alfa, scusami, è il bracciale quello del meca. Hai un sacco di cose. Bravissimo. Giada, è finita la puntata. Cosa devo fare ai nostri amici? Sì, dovete continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e soprattutto sul canale ufficiale di YouTube perché ci sono sempre tantissime novità. Esatto, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, condividete il video e se volete mandarci i vostri disegni a gormitishow.com. Non li aspettiamo sempre. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. 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 Ciao.